Quest'anno abbiamo collaborato attivamente con l'associazione Cuori e Mane Aperte di Don Gianni Mattia. Ci siamo incontrati all'inizio del mio anno sociale, a settembre, e c'è stata subito una comunità di intenti. D'altronde quando si ha a che fare con i bambini è difficile dire di no. Abbiamo fatto un bel concerto a Natale con una raccolta fondi, con la quale abbiamo donato all'associazione un ventilatore pediatrico trasportabile per la bimbulanza che Don Gianni e la sua associazione utilizzano per il trasporto dei bambini. Poi abbiamo organizzato un'altra raccolta fondi in occasione del Carnival Party per finalizzare l'acquisto di queste due due borrelle che stiamo donando assieme a Don Gianni oggi. Molto emozionante è stata questa giornata, che ancora non è finita, adesso consegneremo praticamente queste due borrelle. E ringrazio ancora tutti i nostri soci, i Lions, tutti gli amici, tutti coloro che hanno contribuito per realizzare tutto questo. Sì, il bambino cresce col gioco. Se al bambino mancano i colori, mancano i giochi, non è molto preciso. Dicevo prima, quando vengono all'ospedale noi a questi bambini, per curarli comunque lo facciamo male. E' inevitabile, per cui mettere a disposizione un ambiente che li accoglie e comunque che li fa giocare, quindi li fa crescere, è la possibilità per loro per accettare tutte le pratiche medie che hanno facciato.